È un vero piacere per me essere qui a Taranto questa sera e tra parentesi è la prima volta che suona Taranto ed è una cosa molto importante per me, come naturalmente è molto importante poter suonare col maestro Sergei Krylov al quale mi lega un'amicizia e una collaborazione più che 25ennale e abbiamo scelto un programma che è una summa delle opere tra le più importanti per violino e pianoforte quindi due sonate di Brahms che ricordiamo ne ha fatte tre ma noi prestiamo la prima e la seconda e poi la seconda sonata di Prokofiev e le cinque melodie. È un programma talmente ricco di spunti musicali e anche direi pieno di atmosfere, di colori, di ritmo che speriamo possa piacere a tutti gli appassionati che saranno con noi questa sera. Spero che questa grande musica sarà ben accolta qui a Taranto perché penso che dopo essere stato qui due volte a suonare ho già visto delle persone che conosco ancora da quell'esperienza e sono tornato davvero molto volentieri. Di questo già ringrazio anticipatamente il pubblico e saluto tutti. Grazie a tutti.